Ciao e bentornati su My Football Jersey. Oggi vi presento la una delle maglie pre-match della Juventus per la stagione 21-22, nella versione fan, quella un pochino più confortevole. Le squadre si sfidano in campo, mentre gli autoparlanti dello stadio riscaldano i cuori della tifoseria a suon di musica. Richiamando il look ispirato alla musica elettronica della rivisa Way della Juventus, questa maglia Adidas Football assicura il massimo comfort ai giocatori prima del fischio di nipio. La maglia ha un taglio regolare, girocollo a coste con loghi ricamati. Il morbido tessuto e la tecnologia anti-umidità AeroReady creano un mix perfetto, mentre il logo della squadra, a contrasto, definisce il design audace. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati e rappresenta solo una delle soluzioni di Adidas per lottare contro l'inquinamento causato dai rifiuti plastici. Secondo me questa maglia è bellissima. Nella mia classifica prende 5 stelle, con questi colori così vivaci è veramente ben riuscita. Come al solito devo dirvi, fatta veramente molto bene. Su Main Jersey normalmente non trovo sempre maglie di ottima malfattura. Trovate i riferimenti in descrizione per poter acquistare la maglia. Ora se il video vi è piaciuto, se la maglia vi è piaciuta vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere prossime recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione fan, quella un po' più confortevole dedicata ai tifosi.